Un incendio doloso, secondo le prime indagini, ha gravemente dranneggiato a Roma il liceo Socrate, la scuola molto profilifica dal punto di vista culturale in città. Allora vediamo il servizio di Matteo Parlato. Poco prima dell'alba un incendio divampa il primo piano dello storico liceo Socrate, otto aule distrutte dal fuoco. All'interno della scuola si è subito accolti dal lacri e odore della plastica bruciata. I soffitti sono fusi, il pavimento è ricoperto da una melma di acqua, cenere e frammenti di vetro. Fuori dal liceo, richiamati da uno spontaneo passaparola, ci sono professori, alunni, ex alunni. Il quartiere si sente colpito in prima persona da questo rogo, per cui il sindaco si è impegnato a una reazione rapida delle istituzioni. È uno schiaffo violento in faccia alla società civile. E la società civile e le istituzioni reagiranno in maniera rapida e severa. Il Socrate è conosciuto a Roma per le sue molte attività contro l'omofobia e il razzismo ed è già stato bersaglio di scritte omofobe. Episodi di scritte omofobe e sul cancello e all'interno proprio dell'istituto e c'è stata anche annerita la scritta Socrate antifascista durante uno di questi attacchi. Al Socrate sono determinati a riprendere tutte le loro attività al più presto. Già dal lunedì noi avremo una riunione operativa per vedere il da farsi e far sì che la scuola possa svolgere le sue funzioni istituzionali, educative e culturali regolarmente. Non ci faremo intimidire dati come questo che sicuramente vanno molto al di là del semplice vandalismo.